Il comunismo è il paradiso in terra, cioè una società senza ingiustizia, senza differenza di classe, senza poveri, senza ricchi. La prima mossa importante da fare è di eliminare la fonte di ogni male, che è la proprietà privata. La proprietà privata deve passare nelle mani dello Stato a partire dai mezzi di produzione, dalle imprese. La borghesia è pericolosa per il nostro benessere, è pericolosa per la nostra libertà. Bisogna essere inflessibili. Quest'uomo è cambiato, non cambiare canale. Sansone, da martedì alle 8.30.